Ciao a tutti. L'autominico OPEG Natalia Volch, accusata dell'omicidio di Daria Dugina, è stata trovata vicino a Chievi. Lo riferisce il quotidiano It's Bestia. Secondo i documenti della rete, i veicoli con il numero VIN WMWXP5C53K2H95275 sono stati registrati nel centro territoriale del Ministero degli Affari Interni del villaggio di Sofievskaya Borskagurka, 13 settembre 2022. Meno di un mese dopo, le apostrofo 8 ottobre, è stato acquistato da un certo cittadino ucraino, dalla città di Belaya-Kurk, nella regione di Chievi, che ha immediatamente cambiato il numero di registrazione. Ricordiamo che Dugina è morta la sera del 20 agosto, sull'autostrada Mozajsk nel distretto di Odinzovski nella regione di Mosca. Il suo veicolo è stato fatto esplodere da un ordigno esplosivo a distanza. Il Servizio di Sicurezza Federale della Russia, il 22 agosto, ha dichiarato che i servizi segreti ucraini sono dietro l'omicidio di Dugina. L'artista è considerata Natalia Vovic, che è arrivata in Russia con sua figlia il 23 luglio. Secondo la FSB, dopo la detonazione controllata della macchina, l'autore dell'omicidio è partito per l'Estonia attraverso la regione di Pskov. Il 2 novembre, il tribunale Basmanne di Mosca, ha arrestato Vovic in contumacia. È accusata di un omicidio commesso da un gruppo di persone, in modo pericoloso per motivi politici, o di altro odio. La pena di questo articolo, da 8 a 20 anni di reclusione. L'imputato è stato dichiarato ricercato a livello internazionale. I Coakli hanno organizzato un omicidio e nascondono l'assassino. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.